Ok, quindi senza le fotografie, senza la creazione del book, tutto quello che si fa viene perso alla fine. Invece col book... Non ha incrociato, non ha incrociato, ok, brava. Vedi che non è incrociato? Deve incrociare nella struttura. Prima metti, poi spingi il cuore della quartina e poi incroci. Vai nel volume, vedi che sei fuori volume, ok. Vedi il volume, ok. Fingi bene, cava, vai più pressione quella lì. Vedi che è un po' più alta. All'ultima, si dai pressione? Oh, brava. Siete stanche? Dai, dopo questa faccia la pausa. No, no, no. Guarda il volume, perché dai pressione pallone su pallone, invece devi dare pressione nel volume. Nel volume. No, sei sopra il pallone, non sei nel... ecco, così sei nel volume. Brava. Grazie. 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 Grazie.